L'indagine era partita diverso tempo fa, i poliziotti erano sulle sue tracce, poi il maxi sequestro di ben 1758 auto tutte intestate illegalmente. Sono i numeri dell'operazione messa a segno dagli agenti del commissariato di polizia di Giuliano in collaborazione con il servizio centrale di controllo del territorio di Roma e del compartimento della polizia stradale per la campagna del Molise. Gli inquirenti hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di 1758 auto tutte intestate fittiziamente ad un 34enne originario di Mugnano ma di fatto residente tra Giuliano e Castelvolturno. L'uomo infatti era il titolare di una concessionaria di auto e risultava già indagato per il reato di falso e favoreggiamento. Dalle indagini della polizia è emerso che il 34enne in concorso con altre persone aveva intestato la concessionaria 2.174 veicoli mentre altri 1.464 erano stati registrati a suo nome. In pratica, secondo gli investigatori, l'uomo si intestava le vetture che poi erano vendute a stranieri dietro il pagamento di una sorta di tassa. Molte di queste auto sono state utilizzate dagli stessi stranieri in prevalenza Rom per mettere a segno furti e rapine in varie zone d'Italia. Le tempestive indagini degli agenti della polizia giudiziaria del commissariato di Giuliano già avevano portato al sequestro di numerosi altri veicoli con intestazione fittizia e utilizzati in episodi delettuosi. Le indagini proseguono per scoprire altre auto registrate illegalmente e l'eventuale coinvolgimento di altre persone.